È stato un bel incontro emozionante, istruttivo se volete anche per me, un ambiente, devo dire, suggestivo, stimolante e con dei ragazzi veramente che hanno messo a dura prova le mie capacità, diciamo, di interloquire. Però mi reputo fortunato nell'avere avuto modo di conoscere quest'altro ambito. Più che trasformato in un incontro cinematografico sono stato coinvolto in questa esperienza. Ho trovato delle persone che mi hanno stimolato in questo percorso e devo dire con un pizzico di diffidenza iniziale, poi stanno facendo l'oro. A me non rimane altro che raccontare dei brevi pezzetti di cose vissute. Il collage di quello che è stata la nostra vita sportiva lo stanno facendo loro. Poi vedremo il risultato finale. Spesso i giovani hanno bisogno di incontrare nella loro strada persone che gli dedicano attenzione e un minimo di interesse. Diventa fondamentale. Ci sono poi degli ambiti dove è ancora più indispensabile che questo avvenga. Nell'ambito scolastico, nell'ambito familiare, avere delle figure di riferimento nell'ambito sportivo come gli allenatori. Quindi non possiamo pensare che un giovane da solo possa in qualche modo, certo l'eccezione ci può sempre essere, ma che uno da solo in qualche modo intraprende una strada così in maniera estemporanea. Quindi ci sono dei segnali, ci sono delle persone, ci sono degli eventi, ci sono delle situazioni che in qualche modo ti aiutano a trovare una strada. E sei sicuramente molto più fortunato se su questa strada incontri persone che ti aiutano poi a percorrere. Chiaro che questa manifestazione trova tutto il mio appoggio non solo nel suo percorso ormai strutturato e riconosciuto in tutto il mondo, ma trovo geniale e qualificante che all'interno di questa manifestazione ci sia un'attività giovanile preponderante. E quindi auguro naturalmente a tutti i giurati di trovare la loro giusta collocazione e le loro giuste aspirazioni nel mondo futuro. Grazie.